Il tuo cervello è una macchina perfetta, sofisticata eppure nella maggior parte dei casi non abbiamo idea di come funziona. Questo ci impedisce di utilizzarlo al meglio, di esprimere il nostro pieno potenziale. Così adesso ti illustro una meccanica fondamentale del tuo cervello e ti do a capire il modo migliore di utilizzarlo. Ci sono due sistemi principali nel tuo cervello. Il primo si chiama Default Mode Network ed è come la modalità standard in cui il tuo cervello dovrebbe passare la maggior parte del suo tempo, per questo si chiama Default Mode. È una modalità di riposo in cui utilizzi prevalentemente la corteccia prefrontale mediale ed emetti maggiormente onde cerebrali alfa che hanno una frequenza molto bassa, calma. In questo modo si attiva uno stato psicofisico rilassato in cui la tensione si rivolge all'interno e ti connetti maggiormente al tuo mondo interiore, quindi rifletti, immagini, sogni, occhi aperti. Il tuo cervello sarebbe strutturato per farti tornare sempre in questo stato. Quando non sei impegnato in nessuna attività torni lì. Questo è il primo sistema. Il secondo sistema principale invece si chiama Task Positive Network ed è la modalità di azione in cui il tuo cervello entra quando invece sei impegnato in un'attività specifica. È una modalità attiva in cui utilizzi prevalentemente il sistema di attenzione dorsale ed emetti maggiormente onde cerebrali gamma che hanno una frequenza infatti molto alta, martellante, attiva. In questo modo entri in uno stato psicofisico focalizzato in cui la tensione si rivolge completamente su ciò che stai facendo, ti concentri al massimo. Questi due sistemi sono ugualmente importanti ma anche diametralmente opposti perché quando uno è attivo l'altro invece viene disattivato. Per esempio quando sei concentrato su qualcosa il tuo dialogo interno si queta oppure magari hai tanti pensieri per la testa e allora non riesci a concentrarti su ciò che stai facendo, sono proprio due cose opposte. Se sei nel tuo mondo interiore non riesci a dedicarti al mondo esterno e viceversa. Il problema è che non ti viene insegnato come funzionano questi due sistemi, come passare consapevolmente da uno all'altro. Per questo a volte sei distratto quando magari dovresti essere concentrato oppure sei disconnesso da te stesso perché hai troppi impegni quotidiani. Inoltre questi sistemi sono sempre sotto pressione a causa degli stimoli digitali, lo stress, i ritmi di vita moderni, le cattive abitudini. Così ti ritrovi in uno stato di costante agitazione mentale emettendo principalmente onde cerebrali beta che generano un mix di adrenalina e cortisolo. Queste onde beta hanno una frequenza agitata in cui non sei né completamente a riposo, quindi le onde alfa, né completamente concentrato che sono le onde gamba ma passi la maggior parte del tempo come in un limbo, confuso, a metà tra questi due sistemi principali. Questo ti porta a perderti nella tua testa, anziché vivere le esperienze ed essere te stesso veramente vivi nella tua testa. Non sai cosa vuoi, dimentichi le tue priorità, ti lasci disorganizzare dalle incombenze, dalle aspettative degli altri, dalle false emergenze. La causa principale di questo sono sicuramente le distrazioni digitali che sono diventate onnipresenti nella nostra vita. Passiamo costantemente da uno stimolo al successivo, siamo bombardati sui social media, siti web, pubblicità, pop up, telefoni, computer, schermi per strada, schermi sugli auto, veramente chi più ne ha più ne metta. Questo ci ha portato ad avere un'attenzione povera e frammentata in cui non siamo mai veramente attenti, non siamo mai veramente rilassati e infatti secondo una ricerca della Stanford University, le persone che utilizzano spesso più media contemporaneamente, quindi veramente usano tanto le distrazioni digitali, hanno una memoria ridotta, cioè per essere attenti muovono molte più aree del cervello di quelle che sarebbero necessarie. È quasi come un handicap, ma tutte le ricerche affermano che ogni generazione ha una capacità di concentrazione di gran lunga più inferiore alla precedente, questo nelle ultime generazioni è avvenuto. Ci sono anche degli studi internazionali che addirittura hanno dimostrato che le nostre capacità cognitive sono diminuite esponenzialmente nell'ultimo secolo, proprio a causa dello stile di vita moderno e degli stimoli digitali. La soluzione per uscire da questo problema è semplice, ovvero devi solo tornare ad utilizzare i due sistemi principali del cervello nel modo naturale in cui dovrebbero funzionare. Questo significa due cose. La prima, quando sei impegnato su un'attività ovviamente ti devi concentrare solo su di essa, ti devi allenare a sospendere ogni altra distrazione soprattutto quelle digitali come telefono, email, social e in questo modo rieduchi il task positive network ad emettere onde cerebrali gamma e non beta, quindi quando stai facendo un'attività ti devi concentrare solo su di quella. Quando invece sei rilassato devi approfittare per prenderti del tempo completamente per te stesso in cui stacchi completamente dai dispositivi digitali, telefono, computer, tablet, televisione, puoi fare qualsiasi cosa che ti piace come ascoltare musica, rilassarti sul divano un momento. Il concetto è rieducare il default network ad emettere onde cerebrali alfa e non beta perché se no ogni volta che ci riposiamo veramente non facciamo altro che stare sempre comunque a scrollare i post sui social, non usciamo e mettiamo sempre onde cerebrali beta. Devi allenarti a fare queste due cose per brevi momenti distribuiti durante le giornate, basta poco tempo, non serve avere tanto tempo, bastano anche 15 minuti per rigenerarsi e nel resto della giornata poi puoi utilizzare normalmente dispositivi digitali perché questi brevi momenti ti permettono veramente di rigenerare il tuo cervello ed evitare tutti quelli che sono gli effetti collaterali dell'eccessiva stimolazione. E' uno strumento sicuramente eccezionale e veloce per riducare il tuo cervello sicuramente la meditazione. Ti guida proprio ad utilizzare l'attenzione in modo preciso, mirato, per stimolare le diverse onde cerebrali, le diverse parti del cervello e riprogrammarle. Nei commenti fammi sapere cosa ne pensi. Un caro saluto e sii felice.